Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Siglia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per farvi conoscere una storia a mio parere importante e che tratta un argomento che ho davvero molto a cuore. Forse avrete visto la docu-serie di Netflix incentrata sul protagonista di questo caso, ad ogni modo in questo video vi parlerò dell'uomo più odiato di internet, Hunter Moore. Ricostruendo questa tremenda storia oltrepasseremo i confini di un mondo virtuale popolato da hacker, devastato da azioni immorali come il revenge porn e dove si animano sentimenti di vergogna e di paura. E visto l'argomento sono qui per dirvi che è giunto quel momento. Dovete proteggere i vostri computer e i vostri telefoni. Come? Installando NordVPN. Nel mio caso avere una VPN è essenziale, ma penso che al giorno d'oggi sia importante per tutti. Se per me è utile perché posso spostare e anonimizzare la mia navigazione e quindi reperire le fonti per i miei video, per voi lo sarà per tanti altri motivi, ad esempio per proteggere i vostri dati online, soprattutto se navigate su reti o siti poco sicuri. Proprio così, non tutti i siti web che visitate sono sicuri, così come non lo sono tutte le applicazioni che scaricate o i link che cliccate. Persino una rete wifi pubblica ha delle insidie. Oltre ad offrire poca protezione su siti senza HTTPS, potrebbe anche essere finta. NordVPN offre inoltre anche una funzione antivirus che blocca siti e file pericolosi anche quando la VPN non è attiva. Vi consiglio quindi di provare NordVPN dal link in descrizione. Avrete così uno sconto speciale più 4 mesi gratis sul piano biennale grazie all'offerta del Black Friday, a tempo limitato. Sempre con la garanzia soddisfatti o rimborsati, valida entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Utilizzando NordVPN potrete navigare tranquilli e fare a tutti quei malintenzionati il segno dell'ombrello, ovviamente virtualmente. Ora torniamo al caso di oggi e partiamo da una semplice domanda. Come si fa a diventare l'uomo più odiato di internet? Io per prima lo classificherei come l'uomo più tremendo che attualmente esiste sulla Terra. Infatti vi anticipo che le azioni di Hunter sono spregevoli, così come lo sono i suoi modi di fare e le sue intenzioni. Immaginate in un giorno qualunque di essere al lavoro, a scuola, in biblioteca o a casa. Mentre siete impegnati nelle vostre attività, qualcuno vi chiama e vi dice che alcune vostre foto di nudo sono state pubblicate su un sito internet. Voi però quelle foto non le avete diffuse, le avete soltanto scattate. Di fronte a una notizia del genere, il mondo vi crolla addosso. Non sapete come comportarvi o cosa fare per risolvere il problema, non sapete con chi confidarvi, non sapete come sia potuto accadere e tutto ciò che provate è un mix di rabbia, dolore e vergogna. Questo è ciò che è accaduto alle migliaia di persone finite senza alcun consenso su IsAnyoneUp, un sito web di revenge porn gestito da Hunter Moore. Ma prima di proseguire definiamo l'espressione revenge porn. Che cosa significa? Con i termini revenge porn si intende la condivisione pubblica di immagini o video intimi attraverso internet senza il consenso dei protagonisti degli stessi. Il sito web di Hunter Moore prima di diventare un portale del genere era destinato a occuparsi di vita notturna. Ma poi qualcosa cambia. Hunter viene tradito da una ragazza che frequenta, cerca un modo per vendicarsi, riesce a recuperare delle sue foto in cui è nuda e le posta sul suo sito che denomina IsAnyoneUp. In un secondo momento inizia a postare foto intime dei membri di alcune band musicali della zona. Così il traffico sul suo sito decolla e ottiene un record sorprendente di visite. Da questi risultati Hunter capisce di aver trovato un modo proficuo per fare soldi. Hunter si considera il re del revenge porn, quindi cerca di costruirsi una reputazione da cattivo ragazzo su internet. Non gli importa se la gente lo detesta, lui si reputa un gran figo. Il sito web ha successo come previsto. Riesce infatti a raggiungere 350.000 visualizzazioni al giorno. Successivamente Hunter decide di pubblicare foto di persone diverse senza il loro consenso. Come ci riesce? Beh, ingaggiando un hacker che paga regolarmente affinché penetri abusivamente nelle email e nei file delle vittime. Ma chi sono le vittime di Hunter? La prima di cui voglio parlarvi è Kyla. Un giorno, mentre la ragazza è al lavoro, riceve un messaggio da una sua amica che le linka un sito web scrivendole Ci sei tu nella seconda pagina. Kyla clicca sul link e si imbatte nelle fotografie di diverse ragazze che non indossano i vestiti. Poi, nella seconda pagina, vede se stessa in topless. Kyla si sente male, inizia a piangere e chiama sua madre Charlotte per ottenere conforto e magari un aiuto. Sperà che nessuno veda le foto. Lei sogna di diventare attrice e stava iniziando a ottenere dei piccoli ruoli in dei film. Purtroppo, il suo sogno è destinato a sgretolarsi. Kyla decide di tornare a casa. Charlotte fa di tutto per tentare di rimuovere le foto di sua figlia da quel sito. Scrive allo stesso proprietario, Hunter Moore. Nonostante i suoi sforzi, le foto di Kyla rimangono visibili sul portale. Kyla decide di eliminare i suoi account da tutte le piattaforme social, ma inizia a ricevere chiamate da uomini sconosciuti. Dopo quattro giorni, Charlotte, che continua a navigare sul sito di Hunter, incappa nelle foto di un'amica di Kyla. La chiama subito per avvisarla. Purtroppo, quelle foto sono corredate da commenti disgustosi che veicolano i peggiori insulti. Infatti, un altro risvolto deplorevole dell'essere vittima di questa rete è proprio la possibilità degli utenti di commentare le foto. La gente, sia uomini che donne, lascia commenti ripugnanti e offensivi. Sono insulti difficili da leggere per chi ne è vittima. E di certo Kyla ne soffre. Più legge quei commenti, più si sente sbagliata, inadeguata e si vergogna tantissimo. Da un confronto tra Kyla e la sua amica, emerge che nessuna delle due aveva inviato quelle foto a qualcuno. Se le erano scattate da sole in camera propria, poi, siccome la memoria dei cellulari era piena, o quasi, le avevano inviate al loro indirizzo email personale. Per Charlotte è chiaro che le ragazze sono state entrambe achierate. Come detto, la donna lotta per ottenere l'eliminazione di quelle foto dal sito. Chiama anche il pubblicitario di Hunter, il suo avvocato, il suo agente e alcuni inserzionisti. Arriva addirittura a contattare sua madre. Purtroppo non riceve alcun tipo di aiuto, ma qualche giorno dopo Hunter scopre che qualcuno ha chiamato sua madre mentre stava lavorando in ufficio. Presto Charlotte riceve un'email da un mettente anonimo. La apre e legge. Lascia stare, puttana, o te ne pentirai. Firmato la famiglia. La famiglia è il gruppo di fan, di ammiratori di Hunter. I suoi seguaci arrivano a chiamarlo padre e fanno qualsiasi cosa lui chiede a loro di fare. Dall'infilarsi un petardo acceso nel di dietro, e non sto scherzando, a prendersi a pugni da soli. Prendiamoci conto. Si filmano pure per mandare al loro amato papà la prova che hanno eseguito il compito. Pensate che una ragazza accetta addirittura di lavarsi i denti dopo aver immerso lo spazzolino nel water dove aveva appena urinato. I seguaci sono come impazziti, fanno di tutto per attirare l'attenzione di Hunter. Charlotte li teme, visto che molti di loro arrivano a scrivere «Farò qualsiasi cosa per te, padre. Ucciderò per te, padre». Hunter è un manipolatore indiscusso, e adesso parliamo della sua seconda vittima, Destiny. La sua storia è diversa da quella di Kyla. Destiny ha 19 anni e vuole andarsene da casa di sua madre per essere più indipendente, anche perché ha due figli. La ragazza parla con un suo amico che le propone di mostrarsi attraverso la webcam. «Avrebbe guadagnato abbastanza», le dice, «anche per mantenere i suoi figli». Così Destiny accetta. Si posiziona davanti alla webcam e acconsente anche a visitare il sito IsAnyoneUp. La ragazza ne rimane affascinata, non riesce a smettere di navigarci. Pensa che essere pubblicata su quel portale attirerebbe molti utenti che finirebbero col visitare i suoi siti webcam. Destiny punta alla fama, non perché voglia diventare famosa nell'ambiente hard, ma piuttosto perché vuole guadagnare abbastanza per andarsene di casa e dare ai suoi figli una vita dignitosa. Così Destiny carica spontaneamente le sue foto di nudo su IsAnyoneUp. Vuole vendersi come una donna seducente, la ragazza sexy che tutti desiderano. Non molto tempo dopo si ritrova in una chat con un paio di amici, quali la sfidano a mostrarsi in webcam mentre si infila una bottiglietta di spuma nel di dietro. Uno degli utenti presenti in chat fa uno screenshot e carica la foto sul sito internet di Hunter. Destiny, come già detto, voleva apparire sul portale con una ragazza sexy. Ora però è famosa per essere quella che si è infilata una bottiglia di spuma nel sedere. Inoltre, sopra le sue foto è presente un altro screenshot del suo profilo Facebook. Destiny appare con i propri figli nell'immagine di copertina. Hunter si rifiuta di rimuoverlo e la ragazza si convince a scattarsi ulteriori foto che la ritraggono con degli oggetti introdotti nel di dietro, perché è quello che attira la maggior parte degli utenti. Una sera Hunter le chiede di infilarsi un telefono nel sedere, lui intanto l'avrebbe fatto squillare. Di lì a poco Destiny diventa la ragazza del sedere. La presenza più famosa su quel sito web dopo Hunter. I padri dei suoi figli però sono contrari alla sua affermazione sul portale e vogliono che resti fuori dalla vita dei bambini. La ritengono una persona davvero abominevole. A questo punto Destiny si intristisce e inizia a bere. Una sera pubblica uno stato in cui scrive di essere ubriaca e che si sta divertendo. Questo post attira Hunter che le manda un messaggio per chiederle di connettersi su Skype. Destiny sa che Hunter le sta rovinando la reputazione e la vita, ma vuole ancora catturare la sua attenzione. Hunter le promette di aiutarla a creare un sito web soltanto suo che la renda ancora più nota. Le dice che avrebbe potuto guadagnare abbastanza da riavviare i suoi figli accanto. Destiny si collega a Skype e Hunter le chiede di infilarsi un pugno nel di dietro e Destiny, ahimè, soddisfa la sua richiesta. Hunter, che ha registrato tutto, posta anche questo video su Is Anyone Up, ma non fornisce a Destiny alcun aiuto come promesso, non le dà neanche un centesimo. Si offre unicamente di regalarle una maglietta. Intanto Charlotte, ossia la madre di Kyla, è preoccupata. Non sa come Hunter intenda vendicarsi su di lei e sulla sua famiglia. Così si reca al dipartimento di polizia di Los Angeles, insieme a Kyla. Parla con una detective, le spiega la situazione, che la privacy di Kyla è stata violata e le sue foto sono presenti su quel sito web. La detective guarda Kyla ed esclama Perché hai scattato delle foto del genere se non volevi che finissero su internet? Charlotte si intromette nel discorso e chiede alla detective cosa sarebbe successo se Kyla avesse messo in un cassetto delle foto scattate in camera propria e qualcuno fosse entrato in casa per rubarle. L'investigatrice avrebbe formulato quella stessa osservazione o avrebbe indagato sul furto? La detective sembra infastidita dall'intervento di Charlotte e non avvia alcuna indagine. In generale, un po' tutti sostengono che le vittime se la sono cercata. Come a dire, insomma, non scattare una foto del genere se non vuoi vederla online. Le vittime vengono giudicate e non sostenute, mentre Hunter distrugge le loro vite. A Charlotte preoccupa anche che la foto di Kyla possa circolare su altri siti web. Più la foto rimane online, maggiori sono le possibilità che ciò accada. La polizia di Los Angeles non l'ascolta, così Charlotte contatta direttamente l'FBI. Hunter dal canto suo ripete che non sta facendo nulla di illegale ed è così, perché non ci sono leggi contro il revenge porn, ma l'accheraggio, o frode informatica, è un reato. Se venisse accertato che è coinvolto in un giro di accheraggio, Hunter finirebbe indubbiamente nei guai. Charlotte racconta tutta la storia all'FBI che raccoglie informazioni e le dice che tre agenti sarebbero andati a casa sua entro fine mese. Charlotte è in un certo senso soddisfatta. Forse qualcuno ora la sta ascoltando, ma non le viene offerta alcuna soluzione immediata, quello che lei cerca. Così Charlotte e Kyla chiedono aiuto a Charles, marito di Charlotte e patrino di Kyla, che fa l'avvocato. Fino a quel momento l'avevano tenuto all'oscuro di tutto, perché Kyla si vergognava tantissimo dell'accaduto. Infatti sperava di non doverne mai parlare con Charles. Lui però crede che il modo migliore di affrontare la situazione sia non fare assolutamente niente, perché sottoporla a una maggiore attenzione aggraverebbe tutto, dando forte risonanza alla vicenda. Charles aggiunge che non vuole essere coinvolto e Kyla ne resta sconvolta. Charlotte capisce che è la sola a combattere per l'eliminazione delle foto di sua figlia. Per poter presentare il caso in tribunale, pensa sia molto importante contattare le altre vittime di Hunter e capire come fossero finite sul suo sito web. Deve dimostrare che Hunter è un hacker. Charlotte legge i nomi delle persone ritratte nelle foto pubblicate sul portale e le rintraccia attraverso i profili Facebook indicati dagli screenshot. Non impiega molto tempo per ottenere informazioni dalle altre vittime. Tutte le donne e gli uomini con cui parla sono distrutti emotivamente. Continuando a navigare sul portale, Charlotte trova anche la foto di una maestra d'asilo del Kansas. Hunter scrive al suo pubblico Che ne dite? Pubblico la foto senza vestiti di questa maestra? Perderai il lavoro? I suoi seguaci chiedono a gran voce di postare le foto e Hunter le accontenta. Il giorno dopo la donna va al lavoro ma appena mette in piede nella scuola il preside la licenzia. Anche se lei non immagina il motivo. Charlotte si mette in contatto con la maestra ed è la prima a dirle che le sue foto intime sono finite sul sito di Hunter Moore. La donna è devastata, disperata. Qualche ora più tardi richiama Charlotte mentre ecco il fidanzato. Non sa cosa fare perché né lei né il suo ragazzo hanno abbastanza soldi per potersi permettere un avvocato. Purtroppo ci sono molte storie come questa e Hunter è ben disposto a distruggere le vite altrui. Più l'impatto su qualcuno è negativo, più può accanirsi sulle persone e accrescere il traffico del suo sito web. Un giorno Charles torna dal lavoro e trova un fax indirizzato alla moglie. Prende il foglio e legge Charles a questo punto non sta più con le mani in mano, finalmente. Chiama l'avvocato di Hunter e gli dice che la legge sul copyright è chiara. Le foto appartengono a Kyla ed erano state rubate, quindi si tratta di furto. Charles spiega all'avvocato che queste azioni sarebbero costate care al suo assistito, che avrebbe dovuto pagare profumatamente il proprio difensore, mentre Kyla l'avrebbe avuto gratis vista la professione di Charles. Aggiunge che Hunter deve semplicemente rimuovere le foto dal sito. Se non le eliminerà, Charles gli farà causa e questo gli costerà migliaia di dollari. L'avvocato di Hunter dice a Charles che il suo cliente proprio non gradisce gli ultimatum, ma vedrà cosa può fare per convincerlo. Poi, alquanto incazzato, chiama Hunter e lo esorta a rimuovere immediatamente le foto di Kyla. Il fatto che provengano dall'email personale della ragazza rende la questione ben più seria. Dopo l'accaduto, l'avvocato interrompe il rapporto con Hunter. Le foto di Kyla vengono eliminate nel giro di 30 minuti. La ragazza vuole tornare alla sua vita il prima possibile e lasciarsi tutto alle spalle. Anche Charles è d'accordo, ma Charlotte non intende fermarsi. Non vuole lasciar perdere perché ha contattato tante altre vittime di Hunter che non meritano di essere abbandonate. La donna trascorre giornate intere al computer dalle 6 del mattino fino alle 9 di sera per raccogliere informazioni su Hunter e sulle vittime. Alla fine di febbraio 2012, Charlotte arriva a parlare con 40 vittime, le cui foto erano state postate durante un arco temporale di due settimane in cui rientra anche la pubblicazione della foto di Kyla, sua figlia. Il 40% di quelle vittime non ha mai inviato foto a nessuno, un dato che avvalora la causa di Charlotte. Hunter è un hacker. La donna ne parla con Charles e Kyla e quest'ultima rimane senza parole. Il suo non è stato un caso isolato, è successo a molte altre persone, sia donne che uomini. A questo punto Charlotte prova a mettersi in contatto con diversi giornalisti per informarli del hackeraggio perpetuato da Hunter, ma non riesce a convincere nessuno a dedicargli un articolo. Esasperata, Charlotte decide di aprire un blog, ma non può farlo da casa sua o da Los Angeles, altrimenti Hunter o uno dei suoi seguaci capirebbero che l'autrice del portale è proprio lei. Così facendo potrebbe mettere in pericolo se stessa e la sua famiglia. Charlotte aspetta di essere in vacanza a Las Vegas, va in un internet caffè e scrive i risultati dei suoi sondaggi dopo aver parlato con parecchie vittime. Aggiunge che ritiene che il 40% delle persone con cui è entrata in contatto sono state vittime di hackeraggio. Spiega cosa sta facendo Hunter e quanto è brutale il suo sito web. Charlotte pubblica il blog con il nome di Cassie Freedom e lo controlla continuamente, lo aggiorna e lo monitora per giorni, finché non viene anch'esso hackerato. Adesso parliamo di un'altra vittima di Hunter, Danielle. La ragazza ha 21 anni e vive a Los Angeles, è incinta del suo ex ragazzo con cui torna insieme per circa 6 mesi. Entrambi vorrebbero riconciliarsi, ma non riescono proprio a far funzionare la loro storia. Durante quel periodo, Danielle invia al ragazzo alcune foto intime per tentare di riaccendere la scintilla, ma non serve a nulla, quindi lei decide di tornare a casa sua, ossia a Star City in Arkansas. Passano degli anni, Danielle ha messo al mondo il bambino e si è fidanzata con un altro ragazzo. Insomma, è andata avanti con la sua vita. Quando suo figlio ha circa due anni, una sera durante la cena, sul cellulare del fidanzato di Danielle iniziano ad arrivare continue notifiche da parte di persone diverse. Tutti gli scrivono, «Oh mio Dio, hai visto quel sito? Su Is Anyone Up? C'è Danielle!» Il fidanzato le chiede spiegazioni, ma lei non conosce il portale. Quando va a controllare si rende conto che c'è uno screenshot del suo profilo Facebook abbinato a delle foto intime. Danielle però sa di aver mandato quelle foto soltanto al suo ex di Los Angeles, quindi lo contatta e gli chiede perché abbia diffuso quelle foto, tra l'altro a distanza di anni. Anche il ragazzo però non ne sa nulla, sa dire soltanto che conosce Hunter grazie alla community di MySpace. Così Danielle contatta Hunter, lo implora di rimuovere le sue foto, gli dice che ha un bambino piccolo, ma Hunter le risponde con LOL. Insomma, è come se le avesse riso in faccia. Poi finalmente entra in scena Camille, giornalista di Village Voice, che nel 2012 scrive un articolo su Hunter Moore. Village Voice era un settimanale di notizie alternative sulla città di New York. Parte del lavoro di Camille riguarda le storie di copertina, l'ideazione di servizi che avrebbero attirato l'attenzione. La giornalista inizia a interessarsi ad Hunter verso la fine del 2011. La grande differenza tra Hunter e le altre persone spregevoli che bazzicano in internet è una. Gli altri rimangono anonimi, mentre lui non ha alcun problema a parlare apertamente. Si identifica nell'idea della pornografia non consensuale, ma non se ne sente responsabile. È questo che ha suscitato l'interesse di Camille. I due si sentono e si incontrano. Hunter va a New York e Camille esce con lui e i suoi amici. Per la giornalista questa è un'opportunità per vedere come prende vita il mondo virtuale di Hunter. Camille va in un locale di New York dove si celebra la sua festa di compleanno. Nel 2012 il sito web di Hunter sta crescendo e la sua popolarità ormai è diffusa in tutta l'America. Tantissime ragazze si presentano alla festa col preciso scopo di incontrarlo e magari baciarlo. Un ragazzo durante l'evento dice a Camille, tutti vogliamo essere Hunter Moore. Fa una vita strepitosa. Insomma, per loro è una celebrità. Hunter è felice della presenza di una giornalista al suo party, l'ennesima opportunità per apparire. Intanto Charlotte continua a informarsi su ogni movimento di Hunter. Ogni volta che viene intervistato lui lo rende subito noto tramite un post pubblicato su Twitter. Così la donna contatta Camille via email per fornirle la versione della storia dalla prospettiva delle vittime. Le spiega che secondo lei c'è dietro un sistema di hackeraggio e conclude scrivendo che lei non era una vittima del portale ma aveva parlato con 40 persone che lo erano. Camille fortunatamente ritiene questa informazione importante. Le due iniziano a parlare al telefono e Charlotte riepiloga tutto ciò che sa a Camille. Le invia diversi screenshot a dimostrazione del hackeraggio e dei messaggi provenienti da uno strano indirizzo email. Più le due parlano, più per la giornalista diventa evidente che gli hackeraggi sono reali e costanti. Da questo momento Camille intensifica le ricerche su Hunter Moore. C'è una certezza. Se trama qualcosa di illegale non fa nulla per tenere un basso profilo. Hunter vuole, necessita l'attenzione della gente della stampa. Desidera rilasciare interviste. È anche ospite di Anderson Cooper, un giornalista e conduttore di un talk show diurno che lo fa incontrare con due vittime, ospiti anche loro del programma. Anderson chiede a Hunter se si sente in colpa per ciò che fa. Lui dice che, siccome non conosce le vittime, è indifferente alle loro reazioni. Tutto è più semplice in questo modo. Una delle ragazze gli dice Ok, ma se decidiamo di scattarci delle foto e mandarle a qualcuno di cui ci fidiamo, non vuol dire che ci aspettiamo, che compaiano su internet. E non possiamo fare niente per rimuoverle. In questa circostanza Hunter non viene visto come una celebrità. Molte persone del pubblico sono disgustate dal suo comportamento. Successivamente lui dirà che in trasmissione da Anderson era ubriaco e quindi poco lucido. Una cosa è certa, per la prima volta Hunter ha mostrato al mondo chi è davvero e molte persone sono deluse, amareggiate della sua assenza di scrupoli di coscienza. Ai suoi seguaci Hunter spiega che Anderson Cooper è un falso, in quanto alcune parti dell'intervista erano state tagliate e il montaggio era stato studiato per farlo apparire come una persona peggiore di ciò che è. Hunter però è anche convinto che qualsiasi tipo di pubblicità vada bene, positiva o negativa che sia, insomma della serie, basta che se ne parli. La cosa peggiore è che in parte Hunter ha ragione. Infatti dopo la sua ospitata in quella trasmissione, le visualizzazioni sul suo sito esplodono e diventa un fenomeno globale. Ma c'è anche l'altro lato della medaglia da considerare. Si inizia a dire a tutti che sei un cattivo ragazzo e racconti le cose perfide che fai, potresti diventare il soggetto contro cui si scaglia una crociata. Andando da Anderson è come se Hunter si fosse messo un enorme bersaglio sulla schiena. Infatti finalmente qualcuno dell'FBI lo nota. Nel gennaio del 2012, Jeff Kirkpatrick lavora nella sede dell'FBI di Los Angeles, precisamente nella divisione informatica. Vede per la prima volta Hunter al The Anderson Cooper Show e rimane scioccato dalla sua mancanza di empatia. Hunter non si preoccupa di chi ferisce, delle ripercussioni di ciò che fa sulla vita delle sue vittime. Una delle sezioni del sito web di Hunter si chiama Daily Hate ed è quella in cui il ragazzo pubblica le repliche delle vittime catapultate senza consenso sul portale che lui implorano di rimuovere le proprie foto. Lui in risposta le prende in giro, le umilia, supportato dai suoi sostenitori. Ora non so se ve lo ricordate, ma vi ho raccontato che quando Hunter organizza feste vanno le ragazze e si mettono in fila anche solo per baciarlo. Onestamente io sarei disgustata anche solamente a toccarlo con il ditino sulla spalla. Questo uomo mi disgusta, sul serio. Io sono senza parole, senza parole, ma andiamo avanti. Jeff non ha mai visto niente del genere e quindi decide di seguire il caso. Approfondisce le ricerche per mettere in discussione la legalità del sito, ma si rende conto che non esiste alcuna legge che impedisce a un portale come quello di essere attivo. Poi però grazie a una collega scopre che una donna di nome Charlotte aveva richiesto il loro aiuto tempo prima perché delle foto private di sua figlia erano state postate su quel sito web. Charlotte è convinta che l'account di sua figlia sia stato hackerato in quanto la ragazza, come già vi ho detto, non aveva diffuso mai quelle foto e se il revenge porn non è illegale, l'hackeraggio lo è come. Charlotte aveva fornito abbastanza materiale all'FBI per avviare un'indagine. Così, a distanza di settimane dalla visita di Charlotte, tre agenti dell'FBI si presentano a casa sua un pomeriggio. Devono stabilire se l'hackeraggio sia effettivamente avvenuto. Kyla sottolinea che le sue foto erano presenti unicamente nel suo account di posta elettronica. Controllando gli agenti si rendono conto che c'è una strana email secondaria, ossia garyjohns815-gmail.com Questo destra sospetti in Jeff ed ha credito al fatto che l'account fosse stato hackerato e che le foto di Kyla fossero state prese proprio da lì. Charlotte mostra una cartella contenente le numerose prove raccolte e i detective scoprono che forse ci sono centinaia o addirittura un migliaio di vittime coinvolte in questo caso. Hunter finalmente rischia di andare in prigione, ma occorre almeno un anno per completare l'indagine. A questo punto entra in scena James, un imprenditore digitale. James era un marine degli Stati Uniti, era entrato nel corpo a 18 anni e non molto tempo dopo era diventato responsabile della sicurezza informatica di 128 ambasciate nel mondo. Nel 2012 James lascia i Marines e inizia a gestire diversi siti web, finché un giorno viene contattato da Hunter Moore, che gli chiede se vuole pubblicizzare uno dei suoi siti web su IsAnyoneUp. James, incuriosito, visita il portale, ma vedendone il contenuto rimane senza parole. Visionando i post James si rende conto che si trova davanti a quella che lui stesso definisce l'ultima frontiera del bullismo. Questo lo farà brevidire perché James odia i bulli. L'uomo approfondisce le ricerche e scopre così che una certa Charlotte sta aiutando le vittime di Hunter e anche James vuole aiutarle, a modo suo. Non sa ancora come, ma James ora ha un obiettivo, distruggere la vita di Hunter Moore. Per l'FBI Hunter Moore è una minaccia attiva, dunque viene data priorità a questa indagine. Alcune vittime appaiono ancora sul sito web di Hunter, altri account possono ancora essere hackerati, quindi bisogna agire tempestivamente per porre fine alle sue attività. Per avviare un'indagine dell'FBI serve l'approvazione del procuratore degli Stati Uniti che decide la legittimità del caso. Il primo passo è dunque quello di chiamare l'ufficio del procuratore, Wendy V, affinché permetta all'FBI di procedere. Intanto Jeff Kirkpatrick intervista personalmente le vittime e, continuando a parlare con loro, scopre il metodo usato dall'hacker. La vittima riceve un messaggio dall'hacker che sta usando l'account di un suo amico. L'hacker dice alla vittima che gli è stato bloccato l'account di posta elettronica e che ha perso il telefono, quindi non può ottenere il codice di verifica per resettare la password. Chiede così alla vittima se può girarle questo codice e glielo invia sul suo cellulare. La vittima, in pratica, fornisce il codice all'hacker. Insomma, Hunter punta sul fatto che in generale le persone sono disposte ad aiutare un amico in difficoltà. Quando però, dopo pochi secondi, le vittime ricevono l'email con scritto «hai resettato la tua password», non sanno che in realtà quel messaggio serve a resettare la password del loro account e che stanno per consentire l'accesso alla loro posta. L'hacker ottiene accesso a tutti i messaggi della vittima, agli allegati, alle foto collegate, a qualsiasi messaggio di posta. Dopo che l'hacker ruba le foto, si infiltra negli account social fingendosi la vittima online. Il metodo è semplice, ma efficace. Proprio come per l'account di Kyla, la maggior parte delle vittime nota l'aggiunta di un'email secondaria, la quale serve proprio all'hacker per impostare nuovamente le password ogni volta che ne ha voglia. L'hacker è sempre lo stesso, questo tale Gary Jones. Ma di chi si tratta? È Hunter oppure qualcun altro? Il passo successivo nell'indagine consiste proprio nell'identificare la provenienza dell'account e chi c'è realmente dietro. Intanto Charlotte non si ferma, continua a contattare le vittime, ad aiutarle e confortarle. Danielle, un'altra delle vittime di cui vi ho parlato, arriva a nascondersi completamente. Non vuole più essere vista in pubblico. Smette di lavorare e per cercare di limitare i danni, contatta le persone su Facebook, pregando loro di non condividere le sue foto con nessuno. Charlotte quindi parla anche con Danielle e quest'ultima scopre di non essere sola in questa sventura. Ci sono tante altre vittime nella sua stessa situazione. Nel frattempo Jeff Kirkpatrick definisce il metodo dell'hacker imprudente perché quell'email secondaria lasciata negli account delle vittime costituisce una prova parecchio importante. Questo hacker peraltro non fa alcuno sforzo per nascondere l'indirizzo IP da cui accede agli account delle vittime. L'indirizzo IP è una serie univoca di numeri forniti dal proprio provider di servizi internet che identifica in modo inequivocabile il cliente. Dunque per approfondire l'indagine l'FBI deve controllare gli indirizzi IP che provengono dagli account delle vittime e dall'account di Gary Jones, reaggrupparli e confrontarli. Tra gli indirizzi IP analizzati due insospettiscono gli agenti dell'FBI. Uno corrisponde a un appartamento situato a Studio City in California, l'altro a un'impresa situata a poca distanza. Le indagini conducono a un certo Charlie Evans. Non emergono scoperte particolari, sembra un ragazzo comune che vive a Studio City e lavora nelle vicinanze. Insomma, conduce una vita normale che non desta sospetti. Le domande dunque si infittiscono. È davvero Charlie Evans l'hacker? Oppure è il suo coinquilino? Condivide il wifi con un vicino? Andando più a fondo nelle indagini, gli agenti scoprono che sono presenti delle sue foto sul sito di Hunter e sono convinti che le abbia inviate lui stesso per non destare sospetti, cioè per passare da vittima. A questo punto l'FBI ritiene che Charlie è in realtà Gary Jones. È lui che aveva hackerato quegli account ed è lui che sta continuando a farlo. Ora manca un altro tassello. Il modo migliore per stabilire il legame tra Charlie e Hunter è verificare l'esistenza di uno scambio di email tra loro. James, l'imprenditore digitale, intanto si era messo in contatto con Hunter e scopre ben presto che a lui interessano principalmente tre cose. Il sesso, le sostanze e i soldi. A James i soldi non mancano e anche Hunter aveva dichiarato ai media di guadagnare almeno 20.000 dollari al mese. Però, più James parla con lui, più si rende conto che in realtà Hunter ha un disperato bisogno di soldi. Così gli propone di pubblicizzare uno dei propri siti web sul portale di Hunter. Vuole capire ogni aspetto del suo business. Come nei Marines, anche in questo campo è necessario studiare l'avversario, spiega James. Così l'uomo arriva a scoprire più cose di Hunter di quante ne sappia lui su se stesso. Sa dove si trova ogni server, conosce ogni indirizzo IP, sa quanti visitatori navigano sul suo sito web dopo l'apparizione di Hunter da Anderson Cooper. Il traffico ha aumentato di 10 volte e ora il suo portale è praticamente una piattaforma nazionale. Tutto quello che si trova su internet lascia però una sorta di impronta digitale. E questa è la vulnerabilità che James ha intenzione di sfruttare. Ad aprile del 2012 James parla con Hunter dei contenuti presenti sul suo sito web. Poi spiega che ha controllato alcune delle foto estraendo i dati EXIF, cioè informazioni aggiuntive contenute all'interno delle immagini digitali. Gli dice che non sa che metodo utilizzi per selezionare le foto ma è molto rischioso perché alcune delle ragazze che appaiono sul portale, le quali dovrebbero avere 19 anni, in realtà sono delle 15 anni. James lo avverte che è solo questione di tempo prima che finisca in prigione. Hunter ha timore, ci sono sempre più persone che possono identificarlo. Durante l'indagine dell'FBI Charlotte parla con la giornalista Camille molto spesso e le dice che aveva contattato l'FBI. Camille a sua volta chiama Hunter per metterlo al corrente che l'FBI sta indagando su di lui per hackeraggio. All'inizio il ragazzo ci scherza su, fa battute ma più ne parla con Camille più perde la pazienza. Alla fine si infuria e afferma che quella è un'accusa seria. Aggiunge che avrebbe sparato alla persona che aveva fatto avviare l'indagine all'FBI e quella persona chiaramente è Charlotte. Hunter non ne ha la certezza, non ha le prove ma ne è convinto. Charlotte pensa che Hunter, il cattivo ragazzo, intoccabile, il magnifico Hunter, ora abbia paura. Di certo non vuole essere arrestato e finire in prigione. Finalmente ci stanno riuscendo, stanno arrivando a lui. Hunter fa capire anche a James che è spaventato. Lui gli risponde in modo chiaro e cristallino che la sua vita sarà presto distrutta se non gli permette di intervenire immediatamente. James gli offre una seconda possibilità, una possibilità parecchio ghiotta in realtà. Hunter può tirarsi fuori da questo pasticcio, siccome James è intenzionato a comprare il suo sito web. Hunter borbotta non vorrebbe mai venderlo, ma sa che se non lo farà si ritroverà in un mare di guai. Ama follemente i suoi fan, è disposto a tutto pur di mantenere i seguaci, ma lo terrorizza l'idea di finire in carcere. Inoltre James gli sta offrendo 12.000 dollari e non gli interessa il contenuto del sito web. Non vuole immagini del genere nel suo server, specialmente quelle delle 15 anni spacciate per 19 anni. Hunter alla fine accetta la proposta, ma James lo mette davanti a una precisa condizione. È disposto ad acquistare il portale solo se Hunter pubblicherà una lettera di scuse rivolta a tutte le sue vittime. All'inizio del 2012 James aveva aperto un sito antibullismo chiamato Bullyville.com e preannuncia ad Hunter che reindirizzerà il suo sito web proprio a Bullyville.com. Di conseguenza la sua lettera aperta di scuse sarà visibile sul medesimo sito internet. Hunter ha consente, così Is Any One Up smette di esistere. Tutte le vittime sono davvero euforiche, ora possono riappropriarsi della loro vita. Contemporaneamente tutti i suoi seguaci gli si rivoltano contro. Si chiedono perché abbia fatto dietro front così, di colpo. Secondo i fan, Hunter si è venduto per soldi. Il ragazzo sostiene pubblicamente di essere cambiato, maturato, ma queste sono tutte bugie. Basta leggere i suoi tweet per capire che Hunter è un ragazzo che odia le donne. Pensa siano tutte delle poco di buono. Nonostante la chiusura del sito web, Hunter ha ancora centinaia di fan che lo adorano perché alla fine l'ha fatta franca, considerando tutto ciò che aveva combinato su internet. Ora fa il DJ, viaggia nelle grandi città, si diverte a far festa. Durante questi viaggi Hunter beve, fa uso della polverina bianca in abbondanza e le donne fanno la fila per andare a letto con lui. Di nuovo, questa cosa mi disgusta, ve lo giuro. Anche con un sito inattivo risulta impossibile fermare Hunter Moore. Arriviamo al maggio del 2012. L'FBI sta ancora indagando. Ora conosce l'identità dell'hacker, ossia Charlie, ma servono le prove di un'effettiva cospirazione e del fatto che Hunter ne faccia parte. L'FBI riesce a ottenere un ordine del tribunale per cercare informazioni nelle email dei due ragazzi. Gli agenti esaminano gli orari in cui erano state inviate le foto, a chi erano state inviate e da chi. Studiano migliaia di email e notano uno schema che si ripete. Appena avviene una conversazione tra Hunter e Charlie, le vittime appaiono sul sito web di Hunter. L'FBI trova dunque l'auspicato collegamento tra Charlie e Hunter. Finalmente! Trova le prove del fatto che Hunter sapeva quello che stava accadendo. Hunter e Charlie collaboravano. Intanto la sorveglianza dell'FBI conferma che Hunter risiede a casa dei genitori in un soborgo appena fuori Sacramento, in California. Eseguono un mandato di perquisizione, la mattina presto, verso le 7 e Hunter appare nervoso e agitato agli occhi degli agenti dell'FBI. Gli agenti cercano computer, unità di memoria, dispositivi USB, poi avrebbero condotto un esame forense verificando il contenuto delle email e delle foto che Charlie aveva mandato a Hunter. Hunter ammette fin da subito di conoscere Charlie ed avergli scritto, ma sostiene di non sapere del sistema di hackeraggio. In pratica Hunter fa il finto tonto, a che raggio? Dove? Come? Boh! Inoltre Hunter non si ferma, infatti progetta di aprire un ennesimo sito web, persino peggiore di quello precedente. Annuncia che sta per creare HunterMurTV. Conferma che il concept è lo stesso del sito precedente, ossia prevede la pubblicazione di una foto compromettente con nome, cognome e link ai profili delle vittime e ora anche dell'indirizzo corredato da una mappa per raggiungere i rispettivi domicili. Hunter sottolinea che avrebbe ripubblicato le stesse foto già presenti sul sito web chiuso, quindi le sue precedenti vittime sono terrorizzate. Forse l'incubo sta per rincominciare. L'indagine dell'FBI intanto fa progressi, gli agenti tengono d'occhio Hunter e tutte le sue attività. Charlotte, invece, è arrabbiata. Temendo che tutte le foto delle vittime vengano ripubblicate online, decide di ripagare Hunter con la stessa moneta. Twitta il suo indirizzo di casa, così che l'agente possa localizzarlo e fargli recapitare le denunce. Non ci vuole molto prima che Hunter prenda a scrivere tweet orribili e minacciosi contro Charlotte. Ben presto anche la famiglia, ossia i suoi seguaci, scrive tweet minatori e offensivi contro la donna. Una sera Charlotte riceve una chiamata al telefono fisso di casa e appena alza la cornetta sente una voce dire «Sappiamo dove vivi». In un'altra telefonata la voce la minaccia dicendo «Ti violenteremo e ti uccideremo, abbiamo comprato un sacco per cadaveri della tua taglia». Charlotte capisce di essere sotto il mirino di Hunter, i suoi fan le stanno dando la caccia. In questo periodo la donna resta chiusa in casa. Un giorno, mentre naviga su Twitter, riceve un messaggio da un utente di nome Jack, che le scrive «Devo parlarti di Hunter Moore. Posso chiamarti? Io posso aiutarti. Jack, ammette di far parte del gruppo Anonymous. Ma di cosa si tratta?» Anonymous è un movimento decentralizzato di hacktivismo che persegue un obiettivo concordato praticando un'azione digitale diretta. È noto per attacchi informatici contro varie società, istituzioni governative e scientologi. Ora l'obiettivo concordato è Hunter Moore. Con Anonymous si fa sul serio. Il movimento infatti distrugge tutti i server di Hunter, cancella tutti i suoi dati, tutti backup. Hunter non può più ripristinare i suoi server. È tutto distrutto. I membri di Anonymous cancellano anche il suo numero di previdenza sociale. E si assicurano che non possa uscire dal paese invalidando il suo passaporto. Accedono al suo conto bancario per trasferire tutto il denaro su un conto di un centro antiviolenza per le donne. Spediscono 200 vibratori a casa sua. Arrivano addirittura a dichiararlo morto nello stato della California. Hunter sparisce per circa un mese ed è come se non fosse mai esistito. Anonymous è riuscito a cancellare le tracce della sua intera vita. Soprattutto il sito web che sarebbe dovuto tornare online non diventerà mai attivo. Intanto l'FBI continua a esaminare il contenuto delle email scambiate tra Hunter e Charlie, sia attraverso il computer che tramite il telefono di Hunter. Quelle email dimostrano che la cospirazione era iniziata nell'ottobre del 2011, quando Charlie aveva hackerato l'account di Hunter. Hunter lo aveva scoperto ma non si era arrabbiato, bensì lo aveva contattato per proporgli di lavorare per lui, affinché gli procurasse le foto dagli account che avrebbe hackerato. Charlie individuava le foto, le mandava a Hunter per ricevere il compenso e Hunter lo pagava al massimo il giorno seguente, ricorrendo al suo conto corrente oppure tramite Paypal. Quelle foto poco dopo apparivano sul sito web di Hunter. In una delle conversazioni via email intercorse tra i due, Charlie aveva fatto notare a Hunter perché il hackeraggio è illegale, ma lui non si era dimostrato né preoccupato né turbato. Ora l'FBI può procedere all'arresto. Nel gennaio del 2014 l'agente Jeff Kirkpatrick chiama Charlotte per darle la notizia. Hanno arrestato sia Hunter che Charlie, l'hacker a suo servizio. Hunter però viene scarcerato perché i suoi genitori pagano una cauzione dal valore di 100.000 dollari. Il suo avvocato trova sempre dei modi per rinviare il processo finché non viene annunciato pubblicamente che Hunter ha patteggiato. Hunter e Charlie si dichiarano colpevoli di due capi d'accusa. Il primo per accesso non autorizzato a un sistema informatico protetto al fine di ottenere informazioni. Il secondo per furto d'identità aggravato. La condanna di Hunter viene pronunciata il 2 dicembre 2015 dal Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti. Al centro di Los Angeles. Sono passati quattro anni dalla pubblicazione delle foto di Kyla e lei e sua madre sono presenti in tribunale. Prima della lettura della sentenza l'avvocato di Hunter interviene per sostenere che il ragazzo è cambiato, che ha imparato dei suoi errori e che ora è una persona diversa. Ma durante tutto il dibattimento Hunter non si è risparmiato nell'affibbiare la colpa quasi interamente a Charlie. Era lui il vero cattivo, perché era un hacker molto prolifico. La verità è una, Hunter non è preoccupato per le vittime, non chiede scusa, non è né pentito né dispiaciuto. Dopo che l'avvocato della difesa termina di pronunciare le sue dichiarazioni, il giudice chiama Kyla a testimoniare. Alla sbarra Kyla dice questo. La mia privacy è stata violata da Hunter Moore, un ragazzo che non conoscevo, un perfetto sconosciuto. Si è definito un rovina vita e di professione ed è esattamente quello che ha fatto a me. Ho scoperto che le mie foto erano online mentre all'epoca ero al lavoro come cameriera. Mi sono sentita esposta, mi sono vergognata e sono scoppiata a piangere. Speravo che nessuno le vedesse, ma nel giro di un giorno ho perso il ruolo a me assegnato in un film. Per non parlare delle decine di migliaia di sconosciuti che hanno visto, commentato o addirittura salvato le foto. Mentre cercavo di farle rimuovere, mia madre ha ricevuto telefonate e tweet minatori dei membri della famiglia di Hunter Moore. Alcuni hanno minacciato di ucciderla. Questo mi ha terrorizzata. Porterò il trauma di questa esperienza dentro di me per il resto della vita. Hunter Moore viene condannato a 30 mesi per il suo ruolo nell'acquisizione di immagini intime. Il suo complice, Charlie, viene condannato a 25 mesi. Il giudice inoltre bandisce Hunter dalle piattaforme social. E Hunter, senza i social, non è niente. Hunter pensava che avrebbe monetizzato grazie al suo sito web e sarebbe diventato un conduttore di programmi tv o di podcast. Peccato non avesse previsto Charlotte e la sua lotta costante. Hunter aveva calcolato quasi tutto, ma non di certo che una madre agguerrita avrebbe segnato la sua rovina. Charlotte ha contribuito a far emanare leggi contro l'abuso di immagini intime in 48 stati americani. Tuttavia non esiste ancora una legge federale in materia, purtroppo. Detto questo io ho finito di parlare in questo video. Spero che questo video possa essere per voi interessante. Io non so se avete visto la serie tv Netflix, ma ho voluto portare questo caso perché ci sono davvero rimasta di sasso. Non pensavo esistesse una cosa del genere, onestamente. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso, come al solito ci becchiamo nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!